Gurnica salva l'Italia dal calcio d'angolo, prendendo la palla in polo laterale a quasi l'altezza della nostra aria per la rimessa in gioco della spara germanica. Un minuto di recupero fino a questo momento per conto della Germania. Interviene ancora la nostra difesa con Bertini. Un altro cross e rete della scuola tedesca. I tempi supplementari in questa partita con rete sfumato da Feninger. Entrato in teckel, chivelato sulla palla e assegnato.